Proprio la scorsa settimana, in occasione dell'ultimo incontro e dal ciclo di appuntamenti promossi dal gruppo di SC Sondrio e UCID, si parlava di generatività sociale, quale nuova arma per risollevare le sorti della nostra società, in preda ad una crisi non solo economica, ma soprattutto sociale ed antropologica. Mettere al centro l'essere umano è non più il profitto. A questo requisito ha saputo rispondere perfettamente alla mensa aperta da Don Lorenzo Salinetti, per anni missionario in Perù, che ha colto un'esigenza sempre più sentita nel capoluogo. È nata da tre anni fa, quando, dalle riunioni che avevamo fatto, organizzate dall'ufficio di piano, si vedeva che le povertà erano in aumento, qualcuno aveva l'idea di questa necessità, la mensa comunale era stata chiusa, la parrocchia aveva già aperto una mensa domenicale, ci siamo chiesti dove andavano, da lunedì a venerdì quelli che mangiavano nella mensa della Caritas parrocchiale la domenica e abbiamo cominciato a interessarci ad aprire questa mensa, poi sono venuti qua i primi, il 2 di novembre scorso abbiamo cominciato. In solo i sei mesi, ora la mensa soddisfa le esigenze di un'ottantina di commensali che raggiungono via privata Moroni, di fronte al tribunale, dove è allestita la sala aperta tre giorni alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. A me sembra che va bene sotto diversi punti di vista, sia perché la gente che ha bisogno viene, viene volentieri, si trova bene, sia perché sono serviti con uno stile che a me piace, sia perché questo ha generato l'aiuto di tante persone volontari, benefattori, ha attivato tanta gente generosa che si riunisce nel provare a fare del bene per chi ha bisogno.